bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuger e ragazzi mamma mia ragazzi mamma mia voi non avete neanche idea di quello che state per vedere e per sentire ragazzi sono arrivati questa notte dai miei informatori quelli della SWAT di xyuger dagli informatori segreti dei leak epici come li hanno definiti loro ragazzi leak epici per quello che riguarda il futuro di fortnite voglio subito parlarvi ragazzi della modalità parco giochi la modalità parco giochi ragazzi non è un miraggio ci sarà arriverà abbiamo la descrizione che troveremo vicino all'icona non appena verrà pubblicata nella sezione notizie e per leggere proprio quello che troveremo sarà parco giochi divertiti parco giochi è incentrato sul divertimento con gli amici nella mappa battaglia reale impara ad usare armi nuove e oggetti nuovi recuperare le risorse è semplice in questa modalità quindi prova a costruire fortini enormi già sapevamo ragazzi che epic games stava lavorando ad un sistema diverso di promozione dei giocatori anche che si concentrasse soprattutto sul parco giochi perché con la possibilità di fare delle mega enormi build battle sicuramente il brio comunque è il come dire il verso che il gioco potrà prendere in questa modalità sarà molto molto interessante non sarà assolutamente un caso aspettarsi delle mega battaglie aeree o a comunque ad altezze improponibili perché vi ricordo come abbiamo appena letto che le risorse sono praticamente quasi illimitate un sacco di moltiplicatori per farmare legno pietra e metallo ma anche 10 volte in più i lama rispetto a quanti siamo abituati a vederne nella mappa si parla anche meglio della modalità che abbiamo citato già due o tre giorni fa che è la modalità score royal quella che vi ho già detto abbiamo anche qui ragazzi la descrizione ufficiale che sarà vinci esplorando trovando gli oggetti che ti danno loot più rari come i lama o gli airdrop otterrai più punti vinci sopravvivendo più tempo sopravviviranno i giocatori più punti guadagnaranno vinci combattendo a volte i giocatori nemici devono essere rispediti nella lobby quindi ragazzi la modalità score royal vi ricordo che inserisce tre fattori nella classifica finale per decretare il vincitore della partita non è necessariamente l'ultimo che fa la kill ma ci sono come vedete esplorazioni sopravvivenza e guerra abbiamo un'altra nuova modalità ragazzi e le news non sono finite non sono finite le news ci sono io ve lo ricordo un bel like per questo video perché questo merita condividetelo con tutti i vostri amici ragazzi se ancora non lo avete fatto e mi raccomando iscrivetevi al canale mi raccomando non mi fate gli scherzi la nuova modalità si chiamerà battaglia finale battaglia reale ma con una svolta dice la descrizione battaglia finale si gioca come ogni partita normale tranne fino a quando il countdown finale inizia quindi c'è un countdown alla fine una volta che il countdown finale inizia ogni team deve fare una scelta attaccare o difendersi sopravvivi allo scontro finale dice la descrizione il team con il maggiore numero di membri vivi vince la partita una volta che il countdown arriva a zero ragazzi incredibile questa nuova modalità veramente eccezionale è una roba meravigliosa e voi dite xuder va bene grazie ci hai detto due leak gg cioè non gli ha ancora detti nessuno anzi sei stato tu il primo a parlarne qualche giorno fa e quindi applausi per xuder e per i suoi informatori ovviamente è merito loro è merito loro se io riesco a dirvi tante cose ho un'immagine ho un'immagine di un oggetto che sta per arrivare su fortmate è una roba che non vi immaginereste mai non ve lo ricorderete non ve lo immaginereste mai ragazzi come sappiamo come sappiamo tutti hanno tolto con l'update 4.3 se non ricordo male sì il jetpack quindi era meraviglioso perché l'avevano inserito nella modalità solid gold no praticamente dove utilizzavi fucili a pompa i jetpack era meraviglioso da giocare in quel modo lo abbiamo visto che in combo con i fucili tattici faceva i peggio danni ma purtroppo l'hanno tirato via e lo rimetteranno come ci avevano già detto alla stagione numero 5 però c'è un oggetto raga c'è un oggetto che sostituirà il jetpack e in inglese si chiamerà grappling hook sì hook come capitano uncino ragazzi l'oggetto pronti sbadan guardalo qua guardalo qua ragazzi questo è il nuovo oggetto che arriverà su fortnite è un rampino ragazzi è una pistola di legno con un rampino praticamente praticamente questo ragazzi permetterà di raggiungere delle altezze incredibili solo però se riuscirà ad incastrarsi in determinati punti non sarà così facile ragazzi da utilizzare dovremo trovare un buona una buona location dovremo trovarlo in una buona location ragazzi per riuscire a farlo incastrare tra due rocce oppure intorno ad un albero insomma in qualche posto interessante beh ragazzi queste per il momento sono dei leaks che sono arrivati dai miei data miner di fiducia io spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo ancora una volta un bel pollicione in su se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e condividetelo con tutti i vostri amici noi ci vediamo questa sera in live con i fans ciao